Molte le azioni di supporto in ambito sociale, così ad esempio Carispezia, a fianco della fondazione, è intervenuta negli aiuti alle popolazioni colpite dall'alluvione. Il gruppo Cariparma Credi Agricol sostiene inoltre la ricerca scientifica e il progetto Famiglia Sclerosi Multipla in partnership con AISM. I progetti sociali hanno anche un respiro internazionale, come il progetto Togo avviato dal 2005 da Cariparma con l'obiettivo di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del Togo.